42 N-E-R-T E' la prima prova dell'esistenza di vita oltre la Terra. E' bellissimo. Sei finalmente papà. Sarà una bella lotta per l'affidamento. Guardate quanto cresce in fretta. Ogni singola cellula è una cellula sia muscolare che nervosa. Tutto muscoli, tutto cervello. Quanto è furbo quest'affare. Il tuo carattere è un scientifico, e i scientifici dovrebbero essere persone smarte. Ma in ogni film, sempre toccano l'esistenza e dicono, «Oh, è così bello!» Ma perché? Perché toccano l'esistenza? Lassi l'esistenza! Non c'è capito che l'esistenza sia una cosa pericolosa. E quando fai una nuova scuola di nulla, c'è sempre rischio. C'è rischio in ogni connection, come l'opportunità per la possibilità di reale connessione e intimità. E' un'esistenza che non è un'esistenza in questo film, ma l'esistenza è un'esistenza. E' un'esistenza che è un'esistenza che è di questo. given their circumstances, but how can you not move towards something that you've spent your life studying or trying to find you know, I think that's I think it's important to, you know, it could have easily gone another way as well, you know there is risk and reward everywhere I think in this film we all have our specialties and one wouldn't work without the other. Hugh Derry is the scientist that is supposed to be in the Kibo lab touching but with gloves that have been orderly protected and checked and double checked and triple checked I don't think there is the ignorance of I mean we know that this thing could potentially be either contagious or, I mean that is basically my job it's firewall after firewall after firewall so I don't I don't know if we are if we're throwing ourselves into touching it and playing with it but there is something very beautiful and romantic about science and studying this creature that is reacting to our response or our touch it is beautiful I mean beautiful and scary it goes somehow hand in hand doesn't it? mmhmm yeah 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 Grazie a tutti.